Comandante, una giornata speciale questa mattina qui a Portuale, festeggiamenti sia per la Guardia Costiera che per voi della Capitania di Porto? Sì, diciamo che è un festeggiamento unico perché la Capitania e la Guardia Costiera festeggiano insieme, perché è un corpo dello Stato, 154 anni e 30 anni che quest'anno fa la componente specialistica della Guardia Costiera. Sono 11.000 uomini in tutto il territorio nazionale al servizio del mare, risorsa fondamentale per questo Paese. A livello regionale saranno 500 le unità che offriamo ai cittadini del Lazio per la salvaguardia e la sicurezza del mare di questa bellissima regione. Oggi è una giornata speciale perché festeggiamo soprattutto il lavoro dei ragazzi, il lavoro delle donne e degli uomini della Guardia Costiera che, ripeto, da 154 anni serve il Paese, serve il Paese rivolgendosi al mare e spero continuare a farlo al massimo della dedizione e dell'impegno. È bello perché sentiamo molto la vicinanza delle istituzioni, degli altri corpi di polizia e soprattutto anche dei cittadini. Noi cercheremo di continuare a offrire i servizi che offriamo alla collettività e soprattutto con il valore aggiunto, che oggi forse è anche un po' di moda, ma speriamo che non sia una moda passeggera, di un'attenzione speciale al nostro mare. Quindi auguri alla Guardia Costiera e al corpo delle capinerie e auguri a questo Paese e a tutti quanti per un mare sempre più blu.